Sindaco, una bella sorpresa per i cent'anni della scuola elementare, oggi scuola primaria di Gandino. Sì, grazie a internet, grazie al collegamento virtuale, siamo riusciti a entrare in contatto con i parenti del progettista della scuola elementare di Gandino, che è stata disegnata intorno agli anni 20 e che quindi ci ha mandato un'immagine disegnata a mano di questa scuola. Quindi partendo da questo abbiamo pensato di organizzare un'iniziativa che raccontasse la storia di questi cent'anni, la scuola ci ha seguito benissimo e in più abbiamo aggiunto anche un percorso di progetto rispetto al miglioramento degli spazi esterni della scuola, visto che è stata recentemente sistemata dal punto di vista delle strutture, dei muri e della parte strutturale, e quindi per creare uno spazio scolastico più a misura di bambino e più in sicurezza. Quindi abbiamo incontrato questa storia che si ripeteva in un progetto nuovo e grazie al fatto che la famiglia Aresi, questo era il nome dell'architetto che ha progettato questa scuola, oggi è venuta a trovarci, abbiamo organizzato questo momento che è stato anche in alcuni momenti molto commovente per chi ha vissuto all'interno di questa scuola proprio anche la sua infanzia. Alberto Aresi è il nipote di Abramo Egidio Aresi che progettò questa scuola qui vicino a noi. Come è entrato in contatto con Gandino? Come ha saputo anzitutto di Gandino per arrivare poi fin qui oggi? È una storia estremamente lunga, io sono nato a Milano, cresciuto a Milano, nel condominio dove abitavo c'era un solaio, dove c'era un baule di legno con dentro tante carte e tanti documenti e come spesso accade quando sei giovane non ti interessano molto le cose del passato e quindi è rimasto sempre lì. Questo baule ci ha seguito nei nostri viaggi prima in Francia, poi negli Stati Uniti, e un giorno ho deciso di aprirlo mentre erano gli Stati Uniti e di guardare che cosa c'era dentro per mettere un po' di ordine. Ho scoperto che c'era una parte dell'archivio di mio nonno, dei suoi lavori fatti soprattutto tra gli inizi del 1920 e la metà del 1930. E tra i disegni, tra le pubblicazioni che c'erano c'era questo disegno del progetto sulle scuole di Gandino. Da lì ho cominciato a interessarmi e la cosa affascinante è il fatto che pur avendo abitato a 100 km da qui per anni, mai nulla ho saputo, finché un giorno a 9.000 km di distanza, ma con la tecnologia del 2020 e gli anni successivi, sono riuscito a cominciare a fare delle ricerche. Con Google Maps mi sono presentato davanti alla porta della scuola di Gandino e da lì, con una serie di email, social media e tutto quanto, sono riuscito ad entrare in contatto con il comune di Gandino. Stabilito questo contatto, con mio figlio abbiamo organizzato un viaggio in Italia sulle orme del nonno e il comune di Gandino ci ha così gentilmente invitato e organizzato tutto questo per farci rivedere di prima persona uno dei lavori che il nonno aveva pensato e fortunatamente realizzato e soprattutto così ben mantenuto e così ben utilizzato. Quali altre opere in Italia ha progettato suo nonno? Alcune di queste le possiamo elencare? Tra le più famose, diciamo così, o perlomeno quelle che mi piacciono di più, citerai sicuramente la chiesa di Santo Maso de Calvi a Bergamo, la chiesa di Santa Pollinare a Baggio, a Milano, la villa Basiola a Dannicco e poi diverse altre ville in Bergamo per delle facoltose famiglie degli anni 20 del 1900 a Bergamo. Potrei recettare anche una parziale ricostruzione del Dezzo dopo che era stato distrutto dalla frana, sempre attorno al 1920-1930 e direi che queste sono quelle che mi sono rimaste più nel cuore, più esemplificative del suo lavoro.